Inizia pure ad accelerare Ok, vai Qua sul freno, bravissimo Terza marcia Doppia a destra, quindi non la stringere troppo la prima Fai allargare Bravo Vai sul freno Terza Ancora un pochino più sul freno Ok, molla e vai sui dazi Aspetta a sorpassarla Vai, ci fa passare Passa a destra Ok, vai sul cassa Allora qua il mirillo vai sul freno Anche qua Vai Taglia Un pochino più piano Considera non abbiamo gomme da pista Sono delle gomme stradali normalissime Con questo caldo vanno in crisi alla svelta Bene Qui sempre terza Qui sempre terza Vai, appoggiati sul gas Destra Destra Ora qua sul rettilineo principale Cambia mi marcia un pochettino prima Ok Freno Terza Vai Vai Un pochino più forte sul freno all'inizio della frenata E' un po' più forte prima, vero? Come? Dobbiamo frenare più forte prima? Sì, esatto Esatto Al contrario della strada Qua si va subito forte sul freno E al limite si alleggerisce se siamo troppo corti Diciamo Destra Vai Destra Bravissimo Molla pure Perfetto Quindi hai frenato molto bene Vai sul gas Troppo a sinistra? No, no, va bene Qui diciamo Potevi frenare un pochettino dopo Ok Qua giù mi raccomando Al curvone Cerca di fare la traiettoria più dritta possibile Ok Vai sul freno Taglia Ok Un pochino di freno Molla Perfetto Ok Bravissimo Si vede che la pista la conosci, eh? Poi di nuovo qua sul rettilineo Cambia di marcio un pochettino prima di qua Dopo ti dico perché Terza Ok vai Bravissimo Ti spiego perché Sta andando molto bene Ti sto facendo andare anche un po' più forte Anzi Ma bastante più forte Di come facciamo andare normalmente i clienti Ok Quindi quando passiamo sul rettilineo dei box Che ci sono i capi E poi questa macchina si sente da 10 km Quindi Asciutto Solleva l'acceleratore Aspetta a frenare Portala un pochino più avanti Vai Prenda qua Ok Perfetto Perché è l'ultimo, no? Si Dentro i box Esatto Ok Torniamo Prenda qua è aspirata pensa un po' all'epurbo però suona bene a sinistra bravo vai molto forte bravo grazie